Successo convincente per la pallacanestro Trapani che ieri a pranzo ha vinto il confronto con Cento con il risultato finale di 80-61. Una vittoria netta per la formazione Granata che ha condotto l'incontro sin dalle prime battute di gioco, stabilendo un vantaggio in doppia cifra sin dal primo quarto di gioco e riuscendo a respingere qualsiasi tentativo di riavvicinamento di Cento. Ottima la prova di mollura, ma complessivamente di tutti i giocatori Granata capaci di dare il loro contributo su entrambi i lati del campo. Cinque sono gli uomini in doppia cifra ad evidenziare la prova del gruppo Mollura, Corbett, Renzi, Spizzichini e Miller. Dopo un primo quarto assai veloce dalle ottime percentuali al tiro, il gioco è diventato più fisico e più tattico. Cento ha cercato di imbrigliare le idee offensive di Trapani con una difesa a zona 2-3, ma i Granata sono rimasti lucidi nonostante lo 0 su 7 da tre punti di La Marsha al Corbett. Due punti in classifica importanti per la 2B contro Trapani che si trova al comando del Girone Azzurro e mercoledì scenderà nuovamente in campo a Pistoia. Quando giochi per la prima volta con uno squadro e l'altro Girone c'è sempre un po' di curiosità e sapevamo dell'assenza del loro miglior realizzatore, che è un giocatore importante, Cotton. Essendoci trovati poi nella stessa loro situazione parecchie volte sappiamo che poi quando vinci agli occhi di tutti hai fatto solo il tuo. Abbiamo cercato di non pensare a chi avevamo di fronte, abbiamo fatto cose buone, possiamo migliorare, ma era importante approcciare in maniera diversa rispetto alle ultime giornate del campionato regolare. Mi sono piaciute molto alcune cose, tipo siamo andati in forza nel rimbalzo d'attacco, nel complesso direi che abbiamo dominato sotto i tabelloni, quindi direi che abbiamo meritato la vittoria, abbiamo sempre condotto, sappiamo che è solo un piccolo passettino, ma bisogna riazzerare perché mercoledì in trasferta sarà tutta un'altra storia.